Almeno 25 persone sono state uccise mercoledì nei nuovi attacchi israeliani sui territori palestinesi. Le autorità di Gaza hanno dichiarato che circa 20 delle vittime, tra cui 16 donne e bambini, sono state uccise nella striscia di Gaza. Secondo il Ministero della Sanità di Gaza, l'attacco a una tendopoli nella zona umanitaria designata da Israele, Alma Oasi, ha ucciso almeno 19 persone, mentre un'altra è stata uccisa negli attacchi aerei israeliani che hanno colpito il campo profughi di Burej, nel centro di Gaza. Almeno 5 persone sono invece morte negli attacchi aerei nella Cisgiordania occupata. Sempre in Cisgiordania, mercoledì, un soldato israeliano è stato gravemente ferito dopo che un'autocisterna si è schiantata contro una fermata dell'autobus. I funzionari israeliani hanno descritto l'incidente come un attacco e hanno detto che l'autista dell'autobus è stato ucciso. Nelle ultime settimane Israele ha intensificato i raid militari in tutto il territorio, con la città di Jenin che ha visto la più lunga operazione israeliana nell'area da 20 anni a questa parte.